Ciao, siamo di nuovo qui perché oggi finalmente le Blackpink fanno come back, sì! Finalmente dopo quasi un anno, più di un anno, abbiamo finalmente qualcosa di nuovo su cui piangere, quindi senza aspettare oltre, andiamo subito a guardare il video. Ho paura. 3, 2, 1... Chi è l'islamo? E' vero. Wow, partiamo già così! Wow. Non me l'aspettavo. E' bellissima. Perché dicono Wow, la cosa è? Io volevo vedere il piercing, si ce l'ha. Bellissima. Ma noi queste ce le impariamo. Wow, non me l'aspettavo così! E' vero? E' vero? Ha la stessa pettinatura! Wow, hai visto che ha fatto i denti? Ti adorato. Wow. Sono innamorata! Wow. I vestiti sono stupendi! Sono, come sempre, stupendi! Dietro è come... Playing With Fire? Eh, Juru Juru! Christine Chanel! Wow! Il beat drop non me l'aspettavo per nulla! Beh, dai, buon fatti rotta! Ma no! Il rap lì sa, centro! E' l'unica carica che è genia, su che la è... Che è rapo che la è... Bellissima! Quanto deve costare! Quanto deve costare! Wow! Lui sai i capelli... rosa? Sì, cambia colore! Adoro i capelli di Jennie qua! Com'è quella di Joanne? Oh no, nuovo tarmentone! Sono fessati! Oh, come che dislovo finiscono! Voglio morire! Oh mio Dio, è bellissima! Wow! Wow! Non mi aspettavo per nulla una canzone del genere! Non mi aspettavo per nulla una canzone così! E finalmente hanno dato anche tante line a Jisoo! Sì! Sono abbastanza contenta! Un kill dislovo ne aveva poche! Quindi... Eh, hanno ridotto le line di Jennie! E hanno dato un sacco di line a Rosè e Lisa che io adoro! Quindi, wow! Mind blown! Bene, se questo video vi è piaciuto cliccate se mi piace e subscribe! E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!